Tutto pronto per la nuova stagione di Serie D delle due compagini foggiane. Domani, primo atto, la Coppa Italia. Si disputerà infatti domani, 18 agosto, allo stadio Miramare di Manfredonia con inizio alle ore 20 e 30 la gara di Coppa Italia di Serie D tra Manfredonia e Sansevero. L'indisponibilità del campo del Sansevero e la concomitanza della partita del Foggia di Coppa Italia Lega Pro-Rozaccheria ha indotto la Lega ad invertire la sede. Chi vince affronterà il Biceglie fuori casa. Riflettori accesi dunque sull'esordio delle due foggiane che parteciperanno al prossimo campionato di Serie D in attesa di sciogliere ogni dubbio sul ricorso in atto da parte dell'odace Cerignola. C'è curiosità per ammirare il rinnovato Manfredonia a cospetto di un colodato Sansevero mister 5 contro mister Danilo Ruffini. Due grandi a confronto che già tanto spettacolo hanno dato nella passata stagione nel campionato di eccellenza pugliese.